L'uomo che ha fatto riaprire l'inchiesta sul caso Cucchi e a maggio deporrà al processo è un appuntato scelto dei carabinieri. Riccardo Casamassima, 39 anni, pugliese di Andria, nell'arma dal 98. All'epoca dei fatti, ottobre 2009, prestava servizio a Tor Vergata. La storia di Cucchi non era ancora conosciuta. Lui era ricoverato al Pertini, lei era in caserba a Tor Vergata ed è arrivato al maresciallo Mandolini, uno dei cinque imputati. E' arrivato Mandolini molto preoccupato quella mattina e mettendosi le mani in fronte proprio a senso di disperazione mi disse che era successo un casino perché un arrestato era stato massacrato di botte e poi è andato diretto nell'ufficio del comandante Mastronardi Enrico. E quella mattina in ufficio ci stava anche la mia compagna che Mastronardi presentò a Mandolini in quanto era la prima donna carabiniere che arrivava a Tor Vergata. A quel punto Mandolini gli disse subito che avevano massacrato di botte un arrestato, i carabinieri, e che dovevano cercare di scaricare le responsabilità. Ma perché Mandolini andò a consultarsi con il comandante della stazione di Tor Vergata? Cucchi dopo l'arresto è stato portato nelle celle di Tor Sapienza dove a Tor Sapienza ci stava il figlio di Mastronardi, Mastronardi Sabatino. E lo stesso dopo qualche giorno mi fece una confidenza dicendo che era messo talmente male, l'avevano massacrato talmente tanto di botte, tanto da non volerlo prendere alle celle in consegna e che non aveva mai visto una cosa del genere. Quando è che lei e sua moglie decidete di denunciare? Io stavo guardando un telegiornale e ho visto la sorella di Stefano Cucchi, Laria, che chiedeva giustizia per il fratello. I miei colleghi carabinieri non erano mai stati indagati e a quel punto abbiamo valutato un po' con mia moglie perché ci avevamo comunque paura. Quali ripercussioni ci sono state? Io ho preso oltre cinque procedimenti disciplinari e un totale di dieci giorni di consegne. Mi sono stati aperti dei procedimenti disciplinari fuori tempi per vecchi incidenti, pretestuosi diciamo. Mi è stato controllato il profilo Facebook e da là altre punizioni. Io rischio attualmente di essere congedato. Lavoro sia con il maresciallo Mandolini e lavoro anche con un maresciallo che è un mio superiore diretto. Lavora nella mia stessa compagnia che tempo fa ci ha dato dei pezzi di merda sia a me che a mia moglie perché avevamo testimoniato. Grazie.